Adesso utilizzo l'interpretazione offerta per dire pochi commenti sull'ordine del giorno e voglio ringraziare gli interpreti per il loro lavoro e per facilitare la comprensione tra noi. Dear colleagues, if you need the casks, you have to put them on now. First of all, I would like to share also our words of support and solidarity to Dr. Barca and all the friends from Emilia-Romagna.